Nuovo piano di riorganizzazione socio-sanitaria. Il Tribunale dei diritti del malato ha incontrato le associazioni di volontariato. Vediamo Giovanna Serena. Un incontro con le associazioni di volontariato che ha avuto lo scopo di informare e porre numerose questioni sul nuovo piano socio-sanitario regionale destinato a portare dei cambiamenti sostanziali alla sanità a partire dal 2013. Privileggiare la medicina territoriale mediante la valorizzazione di medici di base sarà uno dei cardini principali del piano. Medici di base che dovranno organizzare la propria attività in medicina di gruppo, in echippe o mediante collaborazioni di team multiprofessionali, attivi in certi casi 24 ore su 24. Di riflesso, un quasi sicuro ridimensionamento delle attività ospedaliere, che finirà per coinvolgere gli ospedali di Porto Gruaro, Riesolo, Sandonà di Piave, per quanto riguarda le unità operative complesse. Giusta e condivisibile è la scelta secondo Luigi Basso, Presidente del Tribunale per i diritti del malato. Per seguire la direzione tracciata, che molto probabilmente porterà ridimensionamento di tre primariati a Porto Gruaro e Benzette a Sandonà di Piave, sarà necessario un dispendio di forze e risorse, che comporteranno lunghi tempi di realizzazione. Questo a causa della mancata preparazione della medicina di base, secondo le modalità previste dal piano, tuttora ancora impreparata dal cambiamento. Il convegno di questa sera, l'incontro di questa sera con le associazioni di volontariato, vuole appunto valutare le implicazioni che questa impostazione può avere sulla qualità, sulla tempestività, avere chiarimenti in ordine a come verranno gestiti e quali nuove strutture apicali saranno previste per il territorio. Una situazione delicata e complessa e carica di perplessità per le associazioni di volontariato, senza considerare inoltre problematiche già esistenti e non considerate nella giusta norma dal nuovo piano socio-sanitario, come la carenza di banda larga, con cui i medici di base si troverebbero a dover lottare e la frammentarietà del sistema informatico dell'ASL-10. Il piano è stato approvato ed è pubblicato nel BUR regionale, mentre sia le schede di dotazione ospedaliera sia le schede di dotazione territoriale non sono ancora state approvate. Dalla lettura delle dotazioni, infatti, sarà l'ospedale di Sandonà a subire il grande ridimensionamento con il rischio di perdere ben sette primariati. Anatomia patologica, otorino-laringoiatra, natalità, oculistica, dialisi, laboratorio e radiologia. Niente tali dunque, ma dietro la facciata del ridimensionamento la mancata conferma di sette primari, non ancora confermati e che quasi sicuramente non lo saranno più. Un elenco consistente di unità operative complesse che perderanno il proprio primario e che potranno portare gli utenti a scomodi spostamenti verso Portogruaro o Mestre. A noi, come Tribunale per i diritti del malato di Sandonà e Centro tutela diritti del malato di Portogruaro, ma penso tutte le associazioni che operano nel territorio, abbiamo interesse di difendere le ragioni dell'utenza del servizio. Questo è il nostro scopo, questa è la nostra mission e noi ci sentiamo fortemente impegnati a tutelare gli interessi dei cittadini utenti del servizio. È forse il nuovo piano sociosanitario una conseguenza di scelta basata sulla necessità di ridurre la spesa, piuttosto che sulla volontà di ristrutturazione vera e propria? È questo che si chiedono le associazioni di volontariato e il Tribunale per i diritti del malato.